Sì, da anni i residenti di Cavanzino ci chiedevano una viabilità più sicura e ordinata. Allora come amministrazione andiamo a proporre tre ipotesi già elaborate dai tecnici su un mandato dell'amministrazione e siccome la grande differenza tra le varie ipotesi che potete vedere nei manifesti è tra creare un senso unico in via tasso o mantenere la viabilità a doppio senso, oltre ad altre soluzioni comunque più ordinate di marciapiedi e di parcheggi, chiediamo ai cittadini di esprimere la loro preferenza in modo che come sondaggio e come opinione possa dare forza all'amministrazione di realizzare uno di questi progetti. Si vota giovedì 30 luglio dalle 20 alle 22 presso il Bala BCC, si può votare anche per delega se qualcuno in vacanza può mandare la fotocopia del proprio documento di identità a un familiare o a un conoscente in modo che l'affluenza e la vostra opinione sia alla portata di tutti. L'evento è stato organizzato e voluto anche dal Consiglio di quartiere di Cavanzino che appunto ha questa funzione di interfaccia tra l'amministrazione e la cittadinanza. Sì, noi ci crediamo molto, io anche come delega alla partecipazione, sulle scelte importanti e fondamentali dei cittadini consultarli e avere un'opinione chiara. E' meglio, è più democratica e partecipata di una elezione, insomma, di mettere una X su una scheda per dire che cosa si preferisce. Penso che non ci sia niente di più democratico e quindi invito tutti i cittadini residenti nelle vie di Cavanzino a presentarsi domani sera 30 luglio al Bala BCC tra le 8 e le 10 di sera.